Si chiama la porta, una porta più grande sarà aperta. Le persone dicono questo quando una relazione torna a finire. Ma cosa se qualcuno ti dà un'appointmento a casa e tu andesce là con le vostre pelle, con tutte le vostre preparazioni perché pensi che questo è un incontro importante e quella persona non apre la porta a te. Potremmo dire, perché? Ho stato invitato. Ma questo è quello che succede quando hai deciso di non aprire altre porte. Tu chiunque la porta e non hai un'apointmento. Hai mai avuto una buona porta aperta? Questa è una buona porta, o dove ti chiede? Si!